Imperi ha dato oggi l'ultimo saluto a Lucetto Ramella, storico, scrittore, cultore del dialetto e delle tradizioni locali. Ramella, nato nell'allora comune di Oneglia nel 1917, fin dagli anni 70 si è adoperato per la salvaguardia del dialetto e delle tradizioni della sua terra, scrivendo libri e collaborando con facoltà universitarie. Un impegno continuo e infaticabile che lo ha portato a produrre anche filastrocche per i più giovani, testi per il teatro dialettale e raccolte di ricette tipiche di cucina che lo portarono ad essere il precursore di quella che diventerà poi la dieta mediterranea. Con Lucetto Ramella se ne va un pezzo della migliore storia d'Imperia. Oggi i suoi funerali, celebrati nella chiesa di San Giovanni in modo semplice e sobrio, come sobria e semplice è stata la sua intera esistenza. Buona Lucetto.